In SAS le alleanze rappresentano un progetto strategico. Siamo partiti qualche anno fa con una fase di assessment in cui abbiamo cercato di capire da chi fosse composto l'ecosistema dei nostri partner e ci siamo resi conto che ci eravamo concentrati prevalentemente sulla fase di delivery per cui collaboravamo con aziende che avevano una forte competenza tecnologica. Abbiamo fatto partire dunque la fase di recruiting per iniziare a lavorare con aziende che ci dessero una mano anche dal punto di vista dei processi di business e che soprattutto avessero un presidio di mercato già consolidato. Quindi abbiamo aperto le porte a nuove aziende e abbiamo inevitabilmente dovuto lavorare con due macro categorie di partner. Le aziende esperte, quindi che avevano la competenza tecnologica su SAS e le aziende nuove, quelle che potevano vantare invece una competenza di processo e un presidio di mercato. Abbiamo cercato dunque di aiutare queste aziende a crescere in un lato e nell'altro in un senso e nell'altro quindi abbiamo aiutato le aziende esperte a costruirsi anche una struttura commerciale una struttura di business development e le aziende invece con una forte predisposizione di processo a costruirsi una practice su SAS aiutandoli con investimenti, piani di formazione, supporto al recruiting e anche cercando di avvicinare aziende che rappresentassero i due lati opposti di questa medaglia con operazioni di fusione o comunque con operazioni di collaborazione fra aziende molto diverse fra di loro. Nel frattempo il mercato è cresciuto e si è iniziato a parlare di cloud, si è iniziato a parlare di big analytics, big data si è iniziato a parlare di soluzioni as a service per cui ci siamo trovati a lavorare con una nuova categoria di aziende che è la categoria dei service provider questa è un'area diciamo abbastanza nuova su cui ci stiamo concentrando in questo momento che vede coinvolti sia partner storici sia nuove aziende che sono per natura dei service provider con loro stiamo costruendo delle soluzioni differenti, delle soluzioni nuove che sono basate sulla loro eccellenza di processo ma costruite sulla nostra tecnologia quindi sono soluzioni powered by SAS questa nuova fase la chiamiamo la fase della differenziazione. Grazie a tutti